Ciao, prendi una carta? Sto allenando un gioco di magia Andiamo a comando Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo nuovamente qua con i The Show Tutti belli, pezzati Per dirvi che facciamo il secondo episodio degli approcci imbarazzanti Come l'anno scorso vi è piaciuto un casino il video Quindi abbiamo deciso di rieplicare Se volete vedere una street magic l'abbiamo guardata sul loro canale Mettetela qua, venite o venite che abbiamo bisogno di iscritti E poi invece abbiamo fatto gli abbracci strani Abbiamo preso le frasi che ci avete consigliato su Facebook, su Instagram e ovunque E le abbiamo portate in strada Ciao amici, pescate una carta Vai Eh, quella, bravo, sì Ok, non farla farla vedere, non farla vedere Falla vedere lui, ok? Ok, perfetto, mettila qua Mischiala, mischiala, mischiala Dammi, dammi Era questa? Sì Ma veramente? Sì, era meglio, bravo Era quella davvero? Sì Ma che buco di culo Parlate italiano? Sì Perfetto, vi faccio una piccola magia Ok, pescate una carta Ok, guardala attentamente, memorizzala Ok, mettila nel mazzo Ok, tu ti ricordi la tua carta Ora, attenzione Il mio mazzo Tutto intero Va nella mia tasca posteriore Posteriore Ok Ce l'hai? Ce l'ho Posteriore Il mazzo è nella carta posteriore Però ora guarda cosa prendo dalla tasca anteriore E' infilato sul superi culo, stronzo Ciao ragazzi Mi siete in un laureata Ti faccio un gioco di magia Prendi una carta? Dai che sono di tu Vai, vai Prendi una carta? Guardala Dammela No, non la carta Ragazzi, pescate una carta Vai Uno, quello che vuoi Falla vedere la tua amica Ma l'ho preferito Ok, aspetta, aspetta Ti concentro Sette di quadri Quasi Quasi? Sette di più Perché mi hanno fatto troppo orgasmo Per un pelo Scusate che mi alleno un po' Parlate italiano? No, ok, perfetto Che bella notizia Ok, devo farvi una magia ragazzi Ok, siete pronte Allora, praticamente Questo è il mio Questo è il mio cazzo magico Tu pesca una carta Da questo lazzo Che è a caso Ok Ti faccio far vedere o no? No, no, assolutamente no Guardala bene Ok Ora rimettila nel cazzo Perfetto Ora che abbiamo Ma che mi domani è io, vero? Ora che abbiamo Cazzo rigi Ok Vabbè Ok Ci voglio riprendere Ok, ok No, no, sì Per favore Cazzo Allora Ora che hai rimesso la carta Nel cazzo Ora Ho fatto anni di camera Non devo dire Ok Ora che hai rimesso la carta Nel cazzo magico Possiamo mescolare il cazzo In questo modo Ora io ti do il mio cazzo in mano Prendilo Certo Lo sentirei abbastanza ingombrante Perché ho un cazzo magico Ora che io non ho più il cazzo in mano Per favore Dividilo in tanti cazzetti E appoggiali qui Perché questo? Ok, tanti piccoli cazzetti Perfetto, perfetto Un cazzetto Ok Due cazzetti Vedi tu, vedi tu Non vorrei stare qui fino a domani Qui nel senso Due cazzetti Facciamo tre cazzetti Vabbè Quattro cazzetti Ok Questo è un cazzo molto particolare Come vedi è un cazzo blu Sono blu le carte di questo cazzo Ora ti ricordi la carta che vi pescazzo dal mio cazzo? Ok Ok Pensa intensamente a questo cazzo Al mio cazzo E ora è nella tua testa Cioè tu hai il mio cazzo nella testa Ok Ok 3 2 1 Cazzo ho sbagliato No scusate ragazzi Ho fatto una cazzata Prendi una carta? Prendi una carta? Vai Guardala Asso di pastori Dai Allora sei passato Strano Dove prendi solo quello? Sì Ciao ragazze Pesca una carta? Pesca una carta Vabbè nonna dai Ti chiamo dopo Va bene? Che bravetta Che cagnetta obbediente che sei Brava Pescavano anche te? Pronto? Oh un cagnile Ah che bello Ok 4 di fiori 5 di quadri Che culo ragazzi Che culo Che buco di culo Ringraziamo Pare per questa opportunità Questa collaborazione che ci fa accrescere parecchio Lasciate 50.000 like Siamo a 20 Ma che è 20? Non fare 2 30.000 like Commentatevi sotto quanto noi siamo migliori rispetto a Para fare queste prove Scrivete anche la vostra scena preferita La scena che avete preferito E consigliate nei commenti degli approcci da utilizzare nel prossimo episodio di questa fantastica serie Che Para si è impegnato a fare solo con noi come ospiti Cliccate su di noi per i prossimi 15 secondi per venire sul nostro canale Ancora? Un canale serio Che fornisce quotidianamente contenuti di qualità pensati per divertirvi Ragazzi è stato un piacere Lo facciamo per voi In tutto ciò iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti Nel mio canale Non so se posso Il cappello di a forma di cuore Se potete ragazzi Passate anche al canale di CiccioGamer Per contenuti senza maglietta Ciao Viva CiccioGamer Ciao Ciao